Ok, per partire mettendomi in cioggezione? Perfetto, partiamo. Allora, sono Ivan Messina, sono nel mondo dell'hosting da circa 15 anni. Ho pensato di parlare di come trasferire un sito web, perché è un qualcosa che come provider che offre il trasferimento gratuito ne facciamo centinaia all'anno. Quest'anno ancora di più, perché sono state diverse acquisizioni. Mentre una persona che è un tecnico si trova a migrare un sito, un dominio, una volta ogni tanto. Chi nel 2023 ha migrato più di 10 siti, da un hosting all'altro? Ok. Diciamo che potrei aver azzeccato l'argomento allora. Ok, iniziamo. Una cosa molto base. Il server, l'hosting, altro non è che un computer sempre connesso online, e risponde ad un indirizzo IP. Il dominio è una specie di conversione. Per noi è difficile ricordarci il numero dell'indirizzo IP, quindi quello che facciamo è scriviamo un nome che ci ricordiamo, questo nome tramite il DNS, il domain name system, ci fa puntare verso quel server, quando lo digitiamo nel browser, e andiamo a chiedere una determinata pagina web a un server specifico. Quindi questa è una piccola introduzione per poi vedere tutto il resto. Quando vogliamo spostare il sito su un nuovo server, che ovviamente quando si cambia hosting si sa, passano tutti i problemi, anche quelli che non c'entrano niente con l'hosting, cosa facciamo? Semplicemente spostiamo i file, spostiamo il database, colleghiamo i file a database, e poi andiamo a trasferire il dominio. Questo è quello che si fa normalmente. Il problema in questo caso è che non so se sul nuovo server ho importato il tutto correttamente, se ci sono stati degli errori, quindi io mi trovo magari a cambiare il puntamento del dominio o a trasferire il dominio, e sul nuovo server ho un errore, una versione di PHP diversa, un flag nell'HT access, quale che sia il problema, o anche semplicemente ho configurato male database, e magari mi trovo col sito offline e devo correre per sistemare. Quindi, la prima cosa da fare, dopo aver spostato il sito, è andarlo a controllare tramite il file host. Il file host è un file sul nostro computer, era quello che agli inizi dell'internet dava, diciamo, il potere all'internet, poi è stato inventato il DNS. In pratica io dico che da questo computer non voglio andare, quando io visito pipo.it, non voglio andare a interrogare il DNS che mi darà l'IP1, voglio andare semplicemente a fare la richiesta sul nuovo server, che è il server con l'IP2, e vedere cosa è successo sul nuovo server. Quindi io posso controllare che tutto vada bene prima ancora di andare a modificare il dominio, in modo da evitare dei problemi. Esiste anche un servizio che è completamente gratuito, si chiama skipdns.link. Io aggiungo l'indirizzo IP, aggiungo il nome del dominio, e vedo il sito tramite proxy. Quindi se per qualcuno può rimanere difficile usare il file host, si può usare questo servizio. Quindi io adesso ho fatto la copia, ho controllato che la copia funziona, a questo punto quello che si fa normalmente è, si cambia il puntamento del dominio se non ho trasferito il dominio, oppure mi siedo, aspetto, e controllo che finisca il trasferimento del dominio. Il problema qual è in questo caso? Ogni dominio ha dei tempi diversi per il trasferimento. Quindi, va bene, questi li vediamo dopo. E quindi io devo aspettare da pochi minuti a alcuni giorni che il dominio completa il trasferimento, oppure devo aspettare alcune ore che il puntamento del dominio termini la propagazione in modo che si veda dal nuovo server. Quindi ci sarà un momento in cui, anzi andiamo qua, no, ci sarà un momento in cui durante la propagazione alcuni clienti vedranno il sito sul vecchio server, alcuni clienti vedranno il sito sul nuovo server. Non solo, ci deve anche essere un momento nel quale io non faccio modifiche, perché se io faccio in questo momento il backup del sito, lo sposo sul nuovo server, aspetto che termina il trasferimento del dominio, a questo punto io non posso fare modifiche, perché se ho fatto le modifiche ancora appunto sul vecchio server, le modifiche vengono perse, perché io ho già fatto il backup, ho già spostato tutto sul nuovo server. Prima di andare avanti voglio dare una nota sul trasferimento del dominio. Questa è una cosa che mi si sta seccando la gola. Non in tanti sanno, anzi, di quelli a cui ho chiesto su Facebook due o tre settimane fa, presenti, nessuno sapeva quali erano le risposte. Quindi, quanto ci mette un dominio.it a trasferirsi? Quanto ci mette un dominio.com a trasferirsi? O net o info? Quanto ci mette un dominio.eu a trasferirsi? Allora, i dominio.eu sono i più veloci di tutti. Appena io invio il comando al registro, all'istante il dominio passa a me. I dominio.it si trasferiscono il giorno dopo alle una di notte. Quindi, se io lo avvio adesso, sono più o meno le cinque, domani alle una, quindi stanotte, tecnicamente, quindi fra sette, otto ore, il dominio passa al nuovo registrar. I dominio.com dicono tutti i cinque giorni, in realtà sono sei. Cioè, oggi è il 18 più sei, 24. Quindi, non è il 23, ma sarà il 24 il giorno in cui il dominio.com passa al nuovo registrar. Perché è importante sapere questo? Perché, se ad esempio un provider, il provider ad acquisto andando via, cancella tutto nel momento in cui il dominio viene portato via. Se io ho un dominio.eu, tutti i dati vengono cancellati. Mi cancellano l'email, mi cancella la PEC, se c'è una PEC, tipo pec.dominio.it e mi cancella tutti i dati del sito. Quindi ho perso tutto se non ho fatto il backup. Quindi devo conoscere questo. Oltre a questo, devo sapere quanti giorni devo stare a sedere sulla sdraio in spiaggia aspettando che il mio dominio termini il trasferimento in modo che il dominio poi inizi la fase di propagazione con i nuovi name server e inizi a puntare sul nuovo server. Quindi devo conoscere questa informazione. Oltre a questo, questo non so se lo sappiamo tutti, lo dico lo stesso, tutti i domini hanno bisogno di un outcode che è una specie di password. Quindi se io voglio trasferire un dominio devo chiedere l'outcode. Il provider visto che il dominio ha il mio nome non si può rifiutare di darmi l'outcode. I domini generici quindi com, net, info, biz e tutte le nuove estensioni oltre a questo hanno un blocco del dominio quindi una sicurezza extra quindi devo prima sbloccare il dominio poi chiedere l'outcode o viceversa. Comunque l'importante è fare tutte e due e oltre a questo esiste un blocco cioè se io sposto o registro un dominio generico quindi com, net e così via oggi ho un blocco di 60 giorni quindi non posso assolutamente trasferirlo. In quel caso devo modificare il puntamento allo scadere di 60 giorni poi posso ordinare il trasferimento. I domini hit i domini eo non hanno questo blocco. Quindi fatta questa panoramica sui domini vediamo come posso trasferire un sito evitando dei problemi perché come ho detto prima se io faccio il backup oggi ho un dominio pippo.com faccio il backup lo sposto avvio il trasferimento devo aspettare 6 giorni mi metto così e aspetto che questo dominio comprata il trasferimento e quindi dopo il dominio inizierà a puntare sul nuovo server quindi devo fare uno stop alle modifiche di 5-6 giorni quello che posso fare per velocizzare questa fase semplicemente invece di avviare il trasferimento del dominio aspetto ad avviare il trasferimento del dominio voi come cliente non potete aspettare se ordinate da un hosting quello che potete fare è ordinare l'hosting e il dominio il trasferimento del dominio con un outcode sbagliato topolino in questo modo il provider non può avviare il trasferimento del dominio perché durante il trasferimento tutte le estensioni vabbè il punto eus trasferisce all'istante quindi non ha questo problema ma durante il trasferimento non posso modificare i name server quindi non posso andare a modificare poi il puntamento se voglio modificare il name server quindi cosa faccio faccio l'ordine con un ordine in raw con un outcode errato a questo punto faccio il backup controllo che funzioni sul nuovo server col mio nuovo con il file host a questo punto se tutto funziona vado a modificare i DNS del dominio non i DNS i name server del dominio faccio puntare tutto sul nuovo server aspetto alcune ore e ci sarà un momento in cui alcuni utenti diciamo un utente a Verona vedrà il sito sul vecchio server un utente a Milano vede il sito sul nuovo server anche in questo caso devo fare uno stop alle modifiche ma è molto più corto perché per modificare il puntamento del dominio ci sono dei tempi di propagazione praticamente l'internet funziona con diversi nodi quando il mio browser va a chiedere a quale IP corrisponde a quale IP punta questo dominio lo va a chiedere uno di questi nodi che tengono in cache l'informazione quindi è possibile che alcuni di questi nodi aggiornino prima che alcuni aggiornino dopo in media si dice che entro 24 ore i name server il puntamento del dominio la propagazione si completa in realtà nella mia esperienza è molto prima i domini.com vanno dai 5 minuti a massimo 2 ore ma di solito entro l'ora già hanno propagato completamente c'è un servizio gratuito per controllare la propagazione che fa un check da diversi server si chiama whatsmydns.net i domini.it ci mettono un po' di più non so cosa faccia il nick ci mettono intorno alle 4 ore quello che posso fare preventivamente diciamo qualche giorno prima è abbassare il ttl che è il time to leave quindi io abbasso questo valore che è un valore in secondi in pratica io sto dicendo a questi nodi di tenere la cache di tenere questa memoria in cache per meno tempo quindi riesco a ridurre al massimo il tempo di propagazione perché è importante ora se io sto spostando il sito vetrina della ferramenta sotto casa che aggiorna gli orari due volte l'anno e mi mandano email non cambia niente possiamo fare il trasferimento normalissimo non ci sono problemi ma se io sto trasferendo un e-commerce che fattura 10 o 20 mila euro al giorno devo tenere il tempo di down almeno possibile non solo devo evitare un problema enorme il problema è che se ad esempio come dicevo prima durante la propagazione il primo l'utente di Verona vede il sito sul vecchio server l'utente di Milano vede il sito sul nuovo server vedono tutte e due lo shop online acquistano tutte e due mi ritrovo con un ordine non solo con lo stesso id ma l'ordine sul vecchio server viene praticamente perso nel senso che non lo vedo sul nuovo server perché ho già fatto un backup quindi devo trovare un modo per evitare questo problema questo tipo di incongruenza diciamo che probabilmente ci saranno più modi quello che abbiamo fatto noi nella nostra esperienza sono due cose diverse uno se il precedente provider ha cPanel esiste un tool di cPanel si può fare un'immigrazione da cPanel a cPanel è semplicissima e si chiama live transfer praticamente cPanel imposta un un redirect p dal vecchio server al nuovo server quindi il nostro utente di Verona durante la propagazione vede ancora il sito sul vecchio server ma il vecchio server gli dice no i dati li devi prendere dal nuovo server quindi tecnicamente usa il primo server come redirect durante la propagazione mentre il secondo metodo che quando ad esempio c'è un altro pannello di controllo o si ha meno controllo quello che si fa è di mettere il sito in manutenzione si fa un backup del sito in manutenzione si sposta al sito in manutenzione si leva la manutenzione entrando nel sito col file host come dicevo prima si controlla che tutto funziona a quel punto si va a cambiare il puntamento del dominio in questo modo il nostro utente di Verona che vede durante la propagazione il sito sul vecchio server vedrà ancora il sito in manutenzione quindi dice torneremo a breve mentre il nostro utente di Milano che vede già il sito sul nuovo server può ordinare e noi non avremo il problema dell'ordine che dicevo prima c'è un altro problema se il sito ha dimensioni enormi cosa molto probabile se si tratta di un sito con fatturate importanti non posso tenerlo online scusami offline per non so diverse ore perché devo scaricare da un server all'altro 150 giga di file e un database da 20 giga quindi si può velocizzare ulteriormente facendo un primo passaggio di tutti i file fare magari una prova con una prima importazione di database quindi avere praticamente tutto pronto a quel punto metto in manutenzione faccio se ho accesso ssh su tutti i due un rsync dei file oppure i file li sincronizzo dopo riporto solamente il database sperando che non ci siano troppi file di differenza nel frattempo che poi comunque dovrebbero essere file aggiunti dall'utente perché il proprietario del sito sa di non fare modifiche in quelle ore e a quel punto faccio praticamente un sync velocissimo metto in metto in manutenzione faccio un sync velocissimo levo la manutenzione e cambio i dns il tutto dopo aver abbassato il il ttl qualche giorno prima quindi in questo modo si riesce a evitare gli ordini doppi e ridurre al minimo il down ovviamente tutto questo processo lo vado a fare una domenica sera alle 4 di notte evito di farlo il martedì pomeriggio o il black friday ovviamente quello è il minimo visto che ho visto questo mi ero tenuto non so a che quanto tempo manca ah ok mi ero tenuto un piccolo argomento extra perché so che parlo veloce quando sono nervoso quindi io volevo dare una una visione diciamo globale di come trasferire un sito perché alla fine penso che più o meno tutti qui sappiamo come si sposta un sito non serve l'altro come fare esattamente però siccome sicuramente finisco prima teniamoci un un argomento extra quindi come possiamo trasferire un sito wordpress partiamo dal modo più probabilmente più semplice che è quello di usare un plugin quindi io posso usare duplicator migrate guru non so neanche onestamente non li uso quasi mai quindi posso semplicemente usare un plugin sperare che funziona perché in alcuni casi alcune limitazioni del server creano dei problemi e quindi non mi permettono di di usare un plugin correttamente o magari non ho la versione pro del plugin ci sono dei limiti di spazio quindi posso usare un plugin sicuramente il modo più semplice c'è altrimenti il modo che consiglierei a chiunque di aprire filezilla scaricare tutto con ftp e ricaricare tutto con ftp l'ho visto fare e ha dei grossi limiti a parte il tempo che ci vuole perché ogni file è una connessione ma c'è anche il fatto che se una cartella ha troppi file alcuni di questi file rimarranno sulla cartella perché c'è un limite adesso non mi ricordo ma sia 10.000 file il modo uno dei modi che io preferisco è entrare nel o nel file manager o entrare tramite ssh fare uno zip un tar poi scaricarlo sul computer e ricaricarlo tramite l'altro file manager e poi fare un zip oppure ancora meglio evitare di usare la connessione di casa che di solito è molto più lenta rispetto al data center e fare dal nuovo server un vget e mi tiro direttamente da un server all'altro mi tiro lo zip che può essere anche 100 giga ma quando lo scarico a 20 mega 30 mega al secondo diventa molto veloce per il database anche lì ci sono diversi modi per scaricare il database che può essere il classico backup con php in my admin esiste adminer che è un solo file php che possiamo caricare tramite ftp si connette al database e praticamente funziona come php my admin oppure usare semplicemente il pannello di controllo dell'hosting quindi una volta che ho i file e il database sul nuovo hosting si tratta di importare il database in un nuovo database sistemare il file wp-config con le nuove impostazioni database controllare se funziona è fatto quindi sono andato velocissimo e penso di aver finito ok ci sono domande vogliamo avere delle domande perché sei andato velocissimo te l'ho detto guardo i video a un e mezzo parlo a un e mezzo purtroppo è così ho ripetuto a mia mamma mi ha detto non devi andare a un e mezzo però non ce la faccio per cosa? ah per fare il backup del database e l'import si si può usare anche quella poi per usare un servizio come Cloudflare per esempio per switchare un po' più velocemente che ne pensi? si volendo si se Cloudflare non è attivo noi non forziamo l'attivazione sul vecchio hosting per poi fare per poi fare lo switch quindi non non abbiamo mai forzato questa cosa anche perché i domini.com alla fine come ti ho detto in un quarto d'ora 20 minuti di solito finiscono la propagazione quando ci mettono tanto sono due ore si dice 24 ma è sempre prima quindi è abbastanza veloce poi facendo la luna di notte anche se fosse un punto hit che ce ne mette tre o quattro non non è un problema insomma ok qualcuno domanda? è stato abbastanza chiaro ho stato chiarissimo ho fatto schifo ci siamo un po' di tempo per riflettere quello che nel caso diciamo sì non è il tuo caso però nel caso di un trasferimento da locale quindi con un cambiamento di urlo oppure un trasferimento di sito con un dominio differente quindi col cambio dell'urlo accorgimenti in più per gli urlo no allora a livello di altrimenti allora a livello di accorgimenti particolari ovviamente va fatto il search replace bene perché alcuni dei dati in wordpress cioè non posso fare un esatto non posso fare un trovo e sostituisci con una query non posso fare un trovo e sostituisci con ad esempio il file SQL un file di testo quindi con un editor di testo quello che devo fare è o esporto il database già con le sostituzioni usando vp migrate db credo che sia cambiato in vp migrate lite se non sbaglio da poco oppure semplicemente esporto il database lo reimporto sul nuovo configuro bene il vp config e a quel punto uso vp cli faccio vp cli search replace e faccio ad esempio due punti barra barra pippo.it e poi tra le altre virgolette quell'altro che sarà due punti barra barra e il nuovo dominio tra l'altro c'è un piccolo accorgimento se io voglio passare da pippo.it a pippo.eu posso tranquillamente fare un replay sul database perché è lo stesso numero di lettere quindi i dati serializzati non si rompono in quel caso però è un caso diciamo che non è proprio il massimo l'accorgimento secondo me importantissimo che non è tanto sul non è tanto sul discorso trasferimento ma più un discorso seo è avere le stesse identiche url per ogni pagina e impostare un redirect 301 altrimenti google ci trova mai ci penalizza diventa un sito diventa un sito nuovo beh è ovvio per qualcuno non è ovvio per altri quindi ok hai domande? no ok va bene grazie mille ok bravo grazie mille grazie mille